50 milioni di euro per la bonifica dell'area della Biviere e la tutela della costa sono a forte rischio se non si provvederà alla firma dell'accordo di programma entro il 31 dicembre. Ad oggi le istituzioni locali non sembrano così consapevoli, a cominciare dall'amministrazione comunale. Vorrei capire cosa è stato fatto fino ad ora, chiede Emilio Giudice, tra i responsabili della riserva orientata Biviere. Diversi assessori hanno partecipato alla presentazione dell'iniziativa che coinvolge ricercatori Ispra e la FIAB nell'ambito di un progetto live per la riscoperta di percorsi ciclabili che possano collegare i siti di Rete Natura 2000. C'era anche giudice insieme al presidente locale FIAB Simone Morgana. L'intenzione politica di sostenere la tutela di queste aree sembra esserci ma sul piano pratico la riserva Biviere fino ad oggi è sembrata una zona fuori dalle priorità amministrative. Se non si provvede alla firma dell'accordo di programma sarà tutto inutile. Oggi invece proprio la rappresentante della Lipo Emilio Giudice insieme ad uno dei funzionari di riferimento di Arpa Sicilia, Marcello Farina, e ad un tecnico Ispra effettuerà sopralluoghi nelle aree che da decenni attendono bonifiche vere, dalle ex discariche industriali di Cipolle e Marabusca passando per l'area di Piana del Signore e ancora della Biviere. Dopo anni e decine di riunioni tecniche dalla contabilità regionale sono riemersi circa 10 milioni di euro per il risanamento. Sono fondi che probabilmente non saranno sufficienti ma è comunque un primo passo in avanti i giudici e i responsabili della riserva diversi mesi fa avevano strappato l'impegno ad una verifica sui posti con l'assenso anche di funzionari ministeriali, poi tutto rimase fermo. Verranno effettuati controlli in siti devastati da decenni di smaltimenti industriali non in regola. Sarà possibile acquisire elementi più accurati e verificare direttamente senza un intervento istituzionale però i fondi per il risanamento potrebbero sfumare come già accaduto per altre fonti di finanziamento.